la povertà in italia il tema della puntata di oggi siamo nel lungomare di nani arriva qualcosa siamo a mergellina cioè guardate questo lido pieno di spazzatura ci volete ospitare nel vostro salotto siamo seduti un attimo grazie signor vincenze signor ulisse ma veramente la gente più povera veramente c'è crisi com'è la situazione e si veramente c'è crisi perché l'euro con questo trova l'aumento automaticamente ce la trasmette a noi pensionate stipendiare praticamente prova l'epa sotto dice aiuto per sotto cimano e siamo rovinati vincenzo e ulisse ulisse vincenzo